jean dobre jean dobre e dita non facci ridere benvenuti in questa sessione per maghi vita magista serla maghi ok elena come stai se tutte le regole un po di fretta ok conto da da 5 a 1 e ti connetti più profondamente a maghi 5 4 32 1 dimmi se la vedi se vedo e lei però con un colore di capelli diverso ma la casa ed è una ballerina classica professionista io sprofazione professional not anzer con ballato con classe e mi fa vedere che a lei non interessa tutto quello che c'è intorno lei vuole pensare solo lei al suo balletto in mi interessa io un'interessa non ci interessa ieri auto con la fama italiana ci dà l'autorizzazione dai e ci può sfavare la spazio è una vita precedente ciò che si può passare c'è dire parallela ma facciamo un bacio non acqua come si chiama la ballerina jackman ai miei tan sarcos clark clavuda clavuda ok ti dici che paese cos'è che cocraio pacce con la vota svedese spezia ed è interessante sapere che si dice svezia anche in italiano ok mentre ricordiamo come si dice italia fuori fuori quindi vuoi un piatto di uoche cucinato è un piatto d'italia cioè delle scarpe cucinate in pratica ok va bene allora mecchi ha già fatto una sessione con me in un lontano passato meglio aslami gli etno fessi e non sa che stiamo all'uscita della sessione è pulita dopo tante i sessi non sa contiene tante stesse po a cesta se a parte l'entità mentali due rita mentali tags che acquistate man canna vediamoli subito da o tra sveglia sapaccio ma livello 4 livello 2 possiamo farti poi c'è un troppo che 22 però che facciamo allora quella che vedo che la rende un po un pochino ansiosa non tanto ma le crea un po d'ansia età è stata aveva unita con chi lecchini e poi qui perché come se è quella che le fa vuole farle tenere tutto sotto controllo spragata è stata ma che scopo controllo un po nel senso che potrebbe essere anche peggio ma con l'entità due è un po sotto controllo ma cosa è nata ma sta spazio come è stata facciamo altro che cota che staccata con l'ecco quindi le crea un po quest'ansia quando come se le avesse una visione di quello che deve fare il testato ha fatto via unità con tacchini e poco i tacchi l'enca che te mai come si fisi a questo ma travis quindi di come andrà la cosa che deve fare nel futuro prossimo to ya comata sprava fa con taci oggi ho suolta con i bless o e se tutto non va come lei aveva visto e si sprava né poi da un tag con una totale sta diventato e cosa facciava le viene un po di ansia finché tutto non va bene da marta deve essere tacchi racchini e poco il croco a spravenne poi da un dog just a signor di casa e la 4 appoggia parte sett'attima che come ti posso aiutare sì ecco infatti sto pensando alziamo le vibrazioni tutti insieme ok allora la 4 è quella che la deve tenere un po ferma nel vibrazioni basse quindi da vedo proprio come se la dovesse tenere statica no vogliamo farti ecco è questa domenica mani e ma che partono gli schifo i brazzi che conosciamo questa caccia un grata casta tecno quindi in qualche modo deve far sì che lei non cambi mai le sue cose nella vita è quella che collabora con un'entità un'entità eterica che poi è tornata età spasiamo parte e costa operazione si è stata un eterica ora pavoro ci va chi è stato un falco uniforme gli stata fa falconi tuttavia sa come fate che diciamo dall'esterno agisce cercando di portargli un po di complicazioni nella vita i giovani e teco falconi da questa casa star asce che poi complico facendo se c'erano se lei non avesse l'entità mentale di livello quattro ma che dimmiate gli stati mentali spasano forte con questo falco uniforme non riuscirebbe più a interferire con maghi totten far con itni e postagne interferò faccio manchi perché lei avrebbe la capacità di vedere l'interferenza e bypassarla superarla ogni persona vita per interferenza oggi staneo ci sono altre teri che sa che c'è non è stata la teresa compresi e dl con traian si sta testa mentre c'è la tipo una specie di scarafaggio so sfruttare un cara cara luca però più brutto caral duca cucaraccia caralo carlo interferisce su maghi tramite l'interferenza di lucifero ital caralo che interferò io smaghi pop jazz in interferenza ecco roma strutta farò secondo universo sì però non solo c'è retro che troppo che scegliata alla niente racconto poi monia non vedo anche un è uno uno degli elohim vettero direi ra questa è stata attraverso la mia corra queste due interferenze collaborano e agiscono su questo scarafaggio e tante interferenze una scoprata che interferisce con maghi attraverso tutta la parte musulmana e ho notato caralo nome che napolo sauna tempo lo potuto ma ci fanno su ma ins che tutto agisce dall'esterno con elementi di cultura musulmana cioè ho in anima questa non c'è la mente a coltore musulmans che ok quindi abbiamo già dato una risposta a tutto il punto 3 che non elenchiamo che già in parte l'ha risolto ma c'è le tante c'è punto c'è c'è coctore successivo fresni e potresti risolto perché un collega musulmano prima della sessione se n'è andato poi ne va scola musulmani in collega spazze e quindi tutti i pensieri diciamo negativi riassumiamo li odò la gente sono arrabbiato sono spartito c'è ritrovata la lista negata nel mozzi 3 non totale comportava a crescita negli navi italiani trasmina ma tuttavia a me chi ha sempre a che fare con uomini uomini soprattutto musulmani perché sono i suoi colleghi all'età c'è nata l'amata c'è nani ma ciascola ma che sta miscita a moto ma insieme ma frate lo viena scena con la costa sì non solo nella nella vita lavorativa vedo ma anche tutto intorno quindi è come se questa entità non perdesse mai occasione per farli per darle fastidio partendo scusa a legna del conflitto totale sfiat zavadova evitare la città genna è stata il caralo che cosa stasca scarsa di occasioni e commosa abitucutati quindi è come vedo come se non perdesse mai l'occasione di dare fastidio a mecchi i miei tracci negli ocasi che teneremo seguito con traccia mi è arrivata questa immagine vedo mecchi che cammina per strada e arrivano tipo mentre lei cammina da una parte dell'altra arrivano uomini che dicono frasi contro di lei tra virgolette effettate la stacca stena ma chi c'è sabbia ulita mi sapete costrano non stessi che ronco ita muoviamo rosna stagna poter adressa diciamo che questo fa sì che se le alza le sue vibrazioni e come se mandassero una un soltino un sortileggio no avete già una potenza e vibrazia e poi ne faccio lecce ma stessi neanche stacchettare i figli che non cosa tali tutto ciò che arriva dal mondo musulmano verso maghi scatazza sapeva che erano come chi è stata cosciuta muso ma inschia fa sì che le sue vibrazioni si abbassino nuovamente stra viaggiate i vibrazioni nuovo spadaio ok questo per colpa dello scarafaggio la cala cara l'uco stasca faccia faccia una cara l'uco ok di liberazione di mecchi ea case i brazzi a manchi 13 miliardi sono a ste miliardo percentuale di consapevolezza poi siamo scelta mostri 129 star vagi stagioni però tanto psp era una vaga amiantato sonido ham 38 62 di te precedenti l'eclipa 1927 facciamo ingerenza da fatti stascia il percentuale di cervello utilizzata il prozento soffana con musco 9.2 gerenzi ok un valore un po strani vibrazione a posto una tutto sommato secondo la media bassa consapevolezza media scorsa cosa non è volta che girna partosci vibrazzata stava la serena serena di passato maschi da snischi poca ps barza ma votosa totale suggestiva sempre la transfer co perché così può capire se dov'è sta ps che c'è stato usato l'attaccata come avrei tutta allora quando lei come se l'ultima gli ultimi sei mesi è come se c'è stato un evento dove come se un'interferenza che poi però non è rimasta legata a lei vita c'è un costante copro come che poi arrivo c'è uno tutta poi poi riuscire che c'è nuova interferenza però esce non te costano alla porta ma io c'è stavate interferenza è come se le avesse messo una gabbia intorno tagliata interferenze ha spostato con crat cava con e quindi diciamo suo campo d'azione di vita è dentro questa gabbia la teca polla giovani a te tu sa che ciò fa paola non città e crat chi e questo fa sì che lei magari vede fuori quello che può fare ma non lo può fare io non avevi stata in gratt che tanti fatti nancy 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 ok causa esoterica del fatto soprattutto che dopo essersi tolta da un'interferenza del preferenza di una di una strega con la prima sessione è finita nelle mani di una ipnologa strega con subito dopo trasporto nasa triccia fatto ma che potrebbe che voglia di scampire nei ciao a finire siamo davanti e spiace i sensi da poter con lei tra l'inizio temerà sarà catturato sei morisci ipnosi allora quello che vedo è che questa strega ipnologa ha messo la gabbia intorno a me che tazza vita terresta usata crat cacco primo che si tratta stavano a me che possa stanno che non osca che è come se con la gabbia lei tiene le persone vicino a sé poi ne va già famosa un paquet crat che tanta pagnolo che il nostro scema traccio schermo fiare blisco scelta e quindi può continuare a interferire sulle persone il tasco sono già interferire interfero faccio temi a sua fami è come se fa fa l'ipnosi però è come se faccesse solo un livello che non le libera ecco c'è una roba e chip house alla roba è un terzo che cosa parla costo piano anche per con attacchi in posione è un attore mio fagna cliente ce le deve tenere le persone a sé e come uscita che fai affiare terter cliente da che entità è preferita questa tizia lo possiamo vedere perché è interferisce maghi ea che è stato interfero e non sta un panno che non lo come la parte spagna facciamo inter tra inter ferroia smaghi è un grosso felinoidi potenze che stai chiusa a fare noi chiamiamo nel cinema di quelle che questa qua interferisce l'amico e il marito dopo essere in me la prossima da nostra cocchina che offiare sperimenta ferroia tanta panni che no che conosca oras o sta peccato le non tutte quattro a me che c'è l'iscia c'è la ora smusa ho visto una cosa questo felinoide e poi sopra c'è un uomo della sorgente che praticamente collabora con l'entità mentale collettiva nell'entità mentale punti io stavo faccio a casa sono nati ma fare in farina vita mia sia da non solo dice l'uomo attraverso città su e collaboro riesco l'ha effettato si è non si sta aumentando con l'interno non ho capito che entità l'entità mentale collettiva di che tipo mi ha chiesto a rota è stato ecco la ternaia quella è un'entità mentale collettiva che è quella che tiene le persone incastrate in incatenate in questo in questo tipo di terapia tra virgolette come è stato è stato mentale collettiva che è stata mentale collettiva mandati pensieri alle persone che hanno sempre bisogno di queste terapie perché questa è stata con l'externa per stavate che mi scelta che non si fai mafiare cosa faccia voi a un tag ora dai o pomozze che anche forse la mentita mentale collettiva che afferiggere alcuni molti rumeni i quali si sono messi tutti allegramenti a fare sessioni di ipnosi dalla mattina alla sera ma ho saltato tecero finirsi da scherzo che romonitor c'è anche la zona da fettora ci ha trovato se che cosa così si rivede più però solo l'inter come se l'ipnologo avesse l'interferenza diretta del felinoide e vedete attacca questa interferenze falinoità il cliente all'interferenza di tutte e due quindi felinoide entità mentale collettiva das client ma per farò già interferenze i falinoida i stati mentali collector nei e sopra questo a questo meccanismo c'è l'uomo un uomo della sorgente ha nato meccanismo amieste trovi giro tua causa del sentire buzza di fumo dopo le interazioni nel periodo delle interazioni con questa strega track check ma che mi ha dato c'è nella stanta rovinita un che conosco niente in emettro che è tempo a piera sofferta invece con il po finino perci io lo vedo più collegato a lucis se l'altra parte vita tanta in parte di sganzano stanno all'altra interferenza in cap vedi incappucciati e animali con i pipistrelli rovniers fecero sancarazzaio 60 mentre in etapa persa se vedo dei tentati delle tentati delle tentate attaccia è stata spaventata cosa capto sono che si può staccia alla navice tutta e prove da con anni un prova taglia che fanno parte del progetto trovando la sorgente ma io non troviamo sex project come si chiama questo progetto jackson sarà proiect ci dico l'immagine non mi è venuto un nome mi è venuto un'immagine come se ci fosse tipo una pressa che tiene tutti allo stesso livello e tutti schiacciati mi vita è una sfida di cosa che io operati se carta capra sactura ma che ne appoggiamo ma in boccia nei lini per stati nome del progetto che i miei geni ma sconite anni per posso fare ma perché l'attacco perché allora l'interferenza che mandano e l'impulso mentale che mandano quando faccio interferenza con questa voglia un certo l'impulso mentale crea la dipendenza e l'interferenza che mandano fa sì che tutti rimangano fermi a un certo livello vibra di razionale che loro vogliono ten in polsato e usa la linea sas tra interferenza potete che c'è un quale ho bisogno di vibrati e non c'è un stare mai attenta che stava in posame gli scrivi i prazzi quindi come se fossero tutti di tutti i concentrati schiacciati questa fatale non sapere spazzata ma sconcentra vani e stami ad un punto c'è tazzo grigiani sconcentra vanita e l'uomo della sorgente giuccia da lì e danno io danno lo ti ce l'ho tua c'è un giovanni canner che ok come si chiama questo modo verso gente come lo vedi ma nei miei tanto fec 0 2 c'è tanto io lo vedo tipo incappucciato lungo senza come se non avesse corpo si vede solo il mantello col cappuccio molto alto e stretto che sbargia per soccata che sto fu evitare di interco tantan qua stand captura mi evitata ciao ma uno degli incappucciati che lei vedeva insieme agli animali era lui se c'è un bambino spero cosa capto sono con una sfamina tantrici a calte che si tratta nome di questo qua ma nei miei cobrin cobrin si chiamano tutti i cobrin i uomini del tempo c'è cero c'è c'è la tua maia una i miei cobrin no c'è sa c'è ma free tram altri no no cosa vuol dire cobrin amata nato e cobrin su pacco è più l'iniziale che fa effetto che ha effetto vedo infatti che quando mi appare il nome vedo l'iniziale che arriva grossa ci poi le altre lette no k a k e poi le altre piccoline tazza vede tutta il tempo parco torre est via cari terra canna po.co a te cosa stavoli perché sotto a che maniscia ha una corrispondenza questa iniziale con l'iniziale della strega c'è tocca via che totai maia che stiamo sex con pierson di terrami minia non ho scritto alla fin allora le iniziali vedo qua abito mi fa vedere che le iniziali hanno una certa vibrazione energetica tutto sta evitato fatto iniziale passata è un perno di brazze anarcho per esempio la k significa chi c'è chiave una cosa quarta di taraka o snat a chi può anche ascoltare il club la s silica strip c'è stringa striscia è tra droga apposta si chiamano ai miei più che è una cosa decisa l'iniziale della tela del nome sì esatto l'ho vista in come faccio a spiegarti come se dopo amico io ho visto l'iniziale della dell'ipnologa in al c'è ho visto lei in alto come se fosse nello spazio ok aspetta facciamano e poi di nuovo l'ho rivista giù quindi sono collegate come se ci fosse una parte uguale di lei la in disna cosa facciamo arriviamo tutta in anna d'orata che con la trucata e si tenta c'è una perché significa chi ha la talità range staff per una porta in piaccia inizia una tra le costruzioni se stavano febrando alta cosa ho nata clutch ma perché vibra e la vibrazione che è uguale ha lasciata cosa che brazia e sta casano della lettera non fatta kayak te in ritardo va bene durante la frequentazione di questa qua maghi cerca di comprarsi una casa ma non ci riesce al contrario questa tizia riesce a comprarsi delle proprietà e maghi ha la sensazione che le sia stata rubata questa opportunità a comprarsi una proprietà privata così e totale spottata che abbiamo fatto che spero si usiuae tutta da tutta che cosa so come dom mi udò che si può lasciano lasciano chciata che non ci siamo più in più in quanto quanto si usi allò che mi occupi la tua la condizione da maghi sta a questo è l'ho ma che fosse un altro'sato che è un altro che è un altro che è un altro che è un altro che è libera con con il desiderio e l'obiettivo di comprare casa quindi emana quella vibrazione insieme a noi a toni e brazia tra certa coperta l'interferenza prende quella parte di ps che a quella vibrazione con quell'informazione vita interferenze abbia fatto un testo e cittura vibroietta un vibrazio non stanno informazioni a moto i canci copnate che viene assorbita dal dall'uomo della sorgente che stanno a poter ma poco niente da vibrazia c'è un tentativo di replicazione di questa informazione il proprio è una stampa di attraverso replicò va c'è un'informazione e a volte nella matrix da il risultato sperato a volte no il matrix è stata la risultazione a base poi avvi al bacino e poi a riaf matrix ha fatto nel caso dell'ipnologa si sapato che non oschi dopo realizzati quindi è come se l'ipnologa avesse imparato il meccanismo vibrazionale per comprare casa c'è stata capire che non oscana uscite con meccanismo che ha creato gli attaccato con la gioca mozza per copicciata un tattato a 12 copicci a lei non è stato permesso di comprarla perché deve stare ingabbiata incatenata ingabbiata nata miast meghini e danno e poco pc da un po' smussi e peccata marta e clazza domanda così perché maghi si è rivolta questa qua e tra aspettando in realtà come che conosceva stato tanto i panni allora non riusciva c'era qualcosa ma allora diciamo che nella nella sua vita non riusciva completamente a raggiungere i suoi obiettivi profetto ma che fa in sottolinea potrà fiato con facciamo un po per le vibrazioni basse tenute basse dall'interferenza di livello 2 e 4 è matosa che stanza potremmo fanno a finisca i fibrati accostati è stata mentale sposa mondo che con il forte con questa questo tenere le vibrazioni basse ha fatto sì che entrasse di nuovo l'interferenza del che entrasse l'interferenza del felinoide e tani sky vibrati e spravevo a stava c'è una what's a muta la interferenza e fa le navità poi c'era l'interferenza del felinoide e interferenze mentali tenevano le vibrazioni basse il nuovo tale interferenza felinoide e che gli strumenti a un'altra cosa c'è me fai anche in tutti gli scrivi pratica e lei ha iniziato a credere di non poter farcela da sola vienzo navio sovastos a negozio sa massa che pomoci ma lei voleva un certo tipo di aiuto c'era proprio stop per tenerlo type a mozza e quindi è data a prendere affidarsi a questa strega e poi non lo savo fate poche sono stati risparmi ma la storia è venuta tutta la vita ha provato si è là un po l'angolo scuro lontano non c'è la quantità non c'è perché l'attaca perché la gente non ha voglia della verità data college a niente a un posto sparte perché una avviene nel cinema e poi sta nell'angolo l'attaca che faccia una cocchina portano faccia di stampa conta allora c'è una sua parte che vuole consapevolizzare vedere come funziona gli est per la trance nictor act as rosomia in sabato già ma in questo momento le interferenze sono più forti a la stampa pat con interferenze che ora ma sono un baggi di scennoni ma non forti da tenerla fuori dal cinema alla niente la scena ad emozione manzita la nostra cocchina quindi riesce a entrare ma non riesce a venire vicino tra il vaso a totale nipotrafe subito c'è uno spettino dove crano va bene cause tutte ricadi e poi se ci sono impianti meridici del fibroma uterino intera spazio c'è ne è stata regionale di sapere non c'è stato implante toluta la faccima femminile propone tra volta ma città se l'avevo già visto prima c'è questo impianto però come se adesso fosse neutralizzato da che sufficiente mi pianta ma che si implanta le terrasse non tra risa fa nel tempo mancia detto che è come se il corpo avesse fatto intorno a questa questa ciste questo fibroma proprio per inglobare l'impianto d'attacco a tampa io avevo scelta tratta c'è stata trova mi ha votato c'è tanta anni in plant c'è la cronica calo della vista problem è spaccato c'è un impianto mentale in orizzontale proprio a livello degli occhi una pagina 8 e poi già un metà che in plant mental bene varicose nella gamba destra già la chi prova noca a più no è più una una reazione fisiologica di tutto e cioè di come vive lei nel senso è più una reazione fisiologica del corpo al al suo modo di di vivere questa barge stamp sopat coietta caffiziano che cittare axia nana sposo sia che è più una reazione che con cui lei prende la vita poi ripeterà affronta la vita affronta la vita testa cagliere axia nata perché sposto che mi ha sceso cioè cioè come se la sua ansia e controllo circolasse all'interno del corpo perché bezzata niente anch'io controlli cross non ci stava che diciamo è come se ogni volta che lei deve fare deve tenere tutto sotto controllo attivi una parte del corpo in eccesso che sa casa da me la e adesso le gambe soprattutto la destra iniziano a essere sofferenti il cancio pacco pato la totale nano nano che spalla destra problemi brave bar che mara menea allora ha avuto un'attaccio non un po di tempo fa e che sta stiamo abbiamo messo prova tagna è come se fosse rimasto un effetto fisico su quella tax e tavolita ho provato in questa sta fiammata che sarà perché la ps ha provato a reagire quindi a scappare mio netterico vedo proprio che è scappata no poi ne va sdossata un vita una pace a mettere c'è la proposta intanto sarpa c'è un concetto in etterico vedo proprio che si è svegliata è scesa questa specie di lettino è scappata e come se fosse stata strattonata dal braccio e tamo bucci oa scena temo uscono poi se mettere c'è stata trovata molto cieca e questa mia usata non è stata usata ora mi è stata che lui cecava e quello è quello che è rimasto fisicamente ok si può spiegare maghi perché a noi quando adesso quando parliamo di abduction c'è meglio scrivere su skype ha mostrato una pista sono taci e totale che non c'è for che la cacopo sota qui a star a scrivere ma come se le avesse sospettato la testa un potenziale sopra fatanea e che si ok lo sta facendo e intanto vediamo l'intestino perché ai problemi di intestino le cause esoteriche e trasporto facendo a ieri tarla troppo problemi di vita no è più una reazione emotiva aspetta lana per favore ha dimenticato di dirci che una volta si è sbagliata con dolori con levidi per corpo che era questa era la bassa si aspettava la farà la serata su bicipiti diciamo su vicino ai bicipiti se si è proprio sei cercato di strutturare ma così proprio fargli anche un testino e taras gli alito lentissima la sua reazione emotiva a alcune cose della vita quindi che non riesce a buttare fuori questa razza una parla emozzi e vi usare c'è stata con ipotrafi e niente ricco vedo che come se a volte il cibo evitano appoggiamento tra fame cosa viene che la sposa fa fosse tipo una palla rigida che non riesce ad essere assorbita per santo e mi siano tempo c'è metterla c'è la mia cotta cat farda con l'acto ragnipotrafi e quindi vedo passare questa palla nell'intestino in fita la tempo c'è metterciano ancora trattano ci sta irritata emorroidi emorroidi la stessa cosa perché poi tutto l'intestino infiammato quindi vedo proprio che si infiamma tutta la parete dell'intestino la mappa c'è una vita tra ieri dopo se quest'anni sapana e poi come se questa palla che passa in fiamma ancora di più età con la grossa codi e sta parci poca situazione adesso c'è chiesto se una causa può essere il pane per esempio no no tiroide infine e tartetta lì c'è c'è un impianto eterico gli astami in planta taretina che è collegato quello mentale lo sganzano a mancanza ma che la moglie ci fatto né lo usano per per interferire sia l'entità mentale 4 che il tempo 0 si esatta in planta c'è stata mentale non mi trovi a casa va bene possiamo chiedere anche ciclotto e settimana prima dal da foto all'impianto e quindi non scomina ma è stata un quasi o in plant va bene chiamiamo i due disincarnati che sono la suocera e la madre e tra strana o solo smarro è prossimo anche io mamma io testo arrivano discutendo tra loro so che fai a metà come non so niente scottorio momento è quasi quasi a picchiarsi perché è come se tutte e due volessero essere quelle che insegnano meglio i loro figli poneva zona per cercare vicino ctora da appena il action l'ex e quindi vedo proprio che ha messo giugito quello che volevo dire c'è le vedo le che litigano perché come se quello che fanno i figli è dovuto grazie a loro no ma ne passa totta roba un 10 top score genkini e ognuna delle tue vuole il merito ecco i carta io stai coppando pagni la sua casa nata scuca dove raccogliamo il messaggio della madre importante tutta rossa che si vada ma ma me diciamo che a parole non dice nulla tranne che ti ho voluto bene ti voglio bene ma quello che mi fa vedere come se volessi inglobarla globale la sua fine iniziamo fina tommyast nato muovete in e tosono con fasi anko hawa a lei ha poca storia che ho preso ciava io so piazzava come se volesse inglobare la figlia in questo tessuto blu quasi di seta perché è un sacro città monta che moto torciano tacchi in materia web c'è per me non mi scherva come se potesse stare ancora nella culla da capenna da una santa faccia come se fosse la sua pietra preziosa da custodire cagò in 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 cagò per questa cosa fa no che da capiscono portale aureo dalla terra se porta alta smart è stato porta lo apriamo le invitiamo potenziare la prossima età ma che tra l'isciuta invitiamo tutti i parenti di tutte le generazioni di maghi e terza prossima sua casa che sarò gm che sa che il pacone staccio ok ci sono presentato oltre a loro due tasse poi a frota un po statemente fama pania mix con amico si sono presentati un po dalla parte della mamma poi dalla parte del papà cioè si fa la strada ma invece poi arrivato in strano e tate maggior parte uomini però che guardia santa ma stai sennac ma sono di tante di tante generazioni se c'è la vera con il stac sì perché come se anche le altre donne fossero così attaccate al loro ruolo materno sulla terra data cosa fiera scopriete a spalzare i croli beccia matt conto una gemi un po come se questo questo sta forte spinta a essere tanto mamme vita diciamo che attacca c'è una mamma un saccia contrastasse un po tutta quell'interferenza musulmana che ha meghi e acquist contraste sta un'interferenza musulman scontro ma manchi e come se faccio essendo una buona e brava mamma in generale tutte le donne della sua famiglia e poi ne vasce che te copiate si rogine bando stacchimento premi matt cami facessero valere facessero vedere il valore della donna e beppo casa e vaueta un parto città comprati come copiato va bene qual è la causa esoterica dei della scarsa comunicazione con la propria ps e degli avvertimenti tardivi probabilmente riferimento alla me dalla ritmologa scusa mi ha scritto che non affide non so se c'entra in questo momento ma no no era era in generale le donne proprio rispetto tutta la linea femminile della sua famiglia non era rivolto a lei un po to con gli occhi copiata che strada rotto web james che i reni capo scusa lucio ripeti un attimo qual è la causa esoterica del non avere un rapporto di comunicazione diretta con la propria ps e con line e con me che muovivano matrimonio animato per capo antonio sdossano cosa poi c'è muoia ostrasagna se non in maniera tardiva probabilmente si riferisce a l'avventura con l'ipnologa progetto per poi se nostri jane l'obraco sdagnato mentre di metà i cipnoloschi però diciamo che è già stato un buon passaggio di evoluzione consapevolezza un po freddo ma se io si amata sta volta che dopo sapeato se crocchi si facciano i vostri spiata mossi perché anni fa non collegava neanche i messaggi della ps a quello che le succedeva quando era soltare a che il suo cifo colonia che colfe a caso fatto sostanza non riesce a farlo diciamo che col seno col seno di poi le secco si accorge che la ps le aveva mandato il messaggio già prima il date copo 80 per a capo faccia orienti e c'è una cosa che fosse valuta ma che segnava però dovrebbe adesso si può allenare a essere sincrona con la ps quindi e teresa un amore da 30 certe 3 9 cifre certe ma per cercare la presa sincronizzati ponte all'autosso perché come se la ps manda il messaggio in quel momento ma lei lo recepisce dopo volta che in farmazia all'onautica riondo che la potace lei ora si può allenare e percepirlo subito a terra smorso e pesce modata v39 c'è già ben già operato in farmazia natas va bene abbiamo visto tutto quindi andiamo solo al cluster tratta risposta schema fatta una chiamata costa non venuto l'ho detto ma il portale aureola anchiuso no si si porta la sua volta che si può sapere niente diamo classe e vediamo se c'è qualcosa si è tornato qualcosa dopo la collaborazione con l'ipnologa e in virtù del fatto che non erano state tolte le entità mentali stata la sabbia cluster c'è tanto stavo niente si vedo i contratti relativi a queste cose che belle interferenze che abbiamo visto qua non c'è nient'altro vite contract interferenze amico da tutta la sua stava femminione non ce n'è a volte può essere che è come se ci fosse l'ombra di nuovi contratti che stanno per arrivare gli è stato sfruttato che coccenia 9 potenzione al contratto fotogramma con 6 in questo caso invece non c'è nulla intorno al tempo pacco concreta un magini amata c'è stata mi stavola tutta la stessa mauce più ok quindi c'è qualcosa si è stata mi è stata cosa fa metà contract cos'è detto lucio eliminiamo lo ok ha fatto lei se si l'ha fatto l'estri a massa ma troppo attacca altra novità per me di insegnare falle vedere come si crea una d'eterno se non lo sa già fare lei di suo e 3 9 ma che poco a 6 riesce ad eterno ma fine atto c'era che ma gliel'ho fatto già fa scusa fatto vedere come si fa a casa vanero c'era bing l'ha messo e sarà più nato ho trovato ok abbiamo lavata e terrestri mescetava tara ci sono due piccoli spicchi uno relativo all'entità mentale uno alle differenze eteriche stavolta che tra mole che male anche fragmente il mio tempo stava con i miei tentate c'è il tormenta un altro che il cavo attacca è stata la terrestri beh via i due residui e da d'eterno ma anche qua davvero samete terrestri che tamper e rovina stamp forza mai tamo mi ascia a me ad eterno ok ok con queste nuove condizioni tutto quello che abbiamo visto ma soprattutto chi chiama l'uomo del tempo ci sono sempre c'è potenza che è stato tetra bellissima accennata al sony anche con interferenze sfasciate che tancluccio trattore caso no 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 ho fatto sparito tutto il progetto che mi evo con la rezzata il progetto chi dove è andato c'è scelta ok è tornato dove ci sono insieme ai suoi colleghi tra piccolette però c'è un tante sono i coccolata promette il tempo cioè di rocce tasso pronti a essere essere richiamato san 4 da 8 a capi pari psa 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 vani con scopo dove questo posto che c'è sta ministra come se fosse un enorme pavimento perché tacchietta con per comorosa con patroca dove c'è solo pavimento gli astami a tenere tappa troca e ci sono come se ci fosse l'informazione di ogni uomo del tempo spenta su come dire i becchio attami in farmazia o castan truffe e coltato leggo non è stata una scasione faccia ma come stiamo in questo posto chi è che c'è una serata mista time time questo è il tempo per tempo per tempo no ok qui c'è qualche uomo del tempo che ha interferito con me nella mia storia c'è strana che si trova che la sottoressa i miei stori inter fa la pausa non allora no lì no che è scritto direttamente con te non lì non c'è perché come se fosse già stato richiamato da un altro avatar a interferire da un'altra parte niente ma tante che occorrebbe inter farà fa la spazio di asta bombo per quanto stavano stavano che così negava tale che c'è ne ho sopra va bene però era interferito con me quindi lo richiamiamo lo mettiamo con in time time a la inter interferrò fausano finché me cotto taita un mc cime corta una tepatota time 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 e siccome siccome io amo fare i regali credo in questo posto in time time un enorme gigantesco ad eternum fisso lì quando faceva l'opera pc presente toff ta kim raseo forse fatta forse anche attacca ad eterno mi è smetano temi istruzioni son attrezzata nuova distrazione si dimmi dimmi allora ho visto una cosa però una cosa tua privata intera dico dopo nuova vibrazione di maghi ea carista raspegrati ha mai che 238 miliardi che ci stiamo si è immediato per consapevolezza facciamo si fa da mostri intorno a 96 stagione 50 60 pro tanto ps 63 dosi dosi a terra sista 60% praticamente si sono invertite vite precedenti vado facciamo se pratica c'è tutta ieri paesi 1626 che c'è un po meno e c'è bello e pro santo sovane con musco 9,6 c'è vento c'è una cosa spero tanto ok messaggio finale della ps della piedi maghi a maghi e con sapere che tommenchi allora vedo potrebbe essere danza potrebbe essere un tipo di ballo però più meditativo non so se a me ma finta soffrata io tanzi ha terminato partita che tanzi meditazione non so se a me piace ballare però vedo proprio dei movimenti fluidi del corpo abitata che poi una rocca ciao a lenti dove lei impara a centrarsi e incanalare le vibrazioni età che pavona roccia una nauta 6 a che ci sono i canali so facci vibrazia mentre fa questi movimenti e alza le vibrazioni deve chiedersi farsi una domanda su quello che vuole fare un obiettivo vai ripetimi un attimo per favore quello che stavi dicendo guarda la sport ha sentito la parte del ballo proprio zero bello ridico allora vedo come se lei danzasse i movimenti fluidi riporta sono già stato soffrata una grana alla navi dice per tanto sta che mi pone miro camicia per usare e mentre lei si concentra sul movimento del corpo alza le sue vibrazioni ed è concentrato la scena al tema rocco tecoccia ma potreste momento e vibrazia ed ecco è come se creasse una linea con il suo corpo mentre fa i movimenti da che questo è un giocatore di rinni stascia vengono riuscire a tarocca e in canale canalizza le vibrazioni in questa linea in canale migrazioni di postata linea i tamu che ronco questo schifo e brazia mentre fa questi movimenti deve pensare a qualcosa che deve fare o vuole fare tra c'è che con noi sta rucca e allenarsi alla risposta che la sua ps le dà ecco 3 9 certe informazioni a tus coraci e costante la scasa scusa mi è arrivata anche una un'immagine un giochino proprio stupido anche la catra se si trova informati a capo è stata scusa ma sapete come piaceva davanti la casa pavala che all'inizio le può dare la conferma di essere sulla strada giusta mosa città pomoz 9 spazio razzaggiano c'è stato poi trozza che è quello di tirare la moneta stavano tania moneta in che senso si chiedere la risposta alla ps con la moneta riusciata a un po pietà con moneta tazza parte ma quante volte e la razza le prime volte può farlo spesso tutte le volte che si mette a fare questa questa danza la patente comodo tra piccina stosa corta me la sangue con noi a tarucca tana cino che romano finché ha risposto a cosa ok ma la risposta a cosa qualsiasi risposta per allenarsi agito è che cose che sapete anni ha dato usata cosa per sacrificio accettano che coppia ci parli per allenarsi può farlo per qualsiasi sì sì per allenarsi assolutamente ok va bene come la vedi chiacca un tarasso e vedo che adesso danza ma danza con con in più oltre al suo corpo ci sono ci sono i suoi obiettivi e il dialogo con la ps che sono variante la stessa tante alla trasmopo che ne ha passato e c'è ora aspetta che mi ha distratto un po che ho letto un messaggio che mi ha scritto puoi ripetere la città obiettivi e poi gli obiettivi e la sua centratura con la ps ha tristante se la vacuna e tra questa cotenza i ponti anni sto so è come se adesso è in grado di ricordarsi come faceva in quella vita dove era ballerina professionista e terra sono a mossa pami in touch poi c'è accorta tanta la casa c'è un altro non ci poi avevano potuto dove aveva imparato a comunicare con la sua ps stanta misura c'è una autosia comunico